Che vuoi? Uomini e donne, Maria De Filippi fa fuori altri quattro dallo studio Addio a due coppie. . Nel secondo appuntamento del throne over di Uomini e donne in onda mercoledì 27 marzo 2019 su Canale 5, i telespettatori hanno assistito all'addio di due coppie. Quindi con la puntata odierna Maria De Filippi ha fatto fuori quattro protagonisti abbastanza conosciuti del parterre senior. Ma di chi si tratta? Nel prosiego dell'articolo troverete tutti i dettagli. Pamela e Stefano lasciano. . La puntata odierna del throne over di Uomini e donne è stata registrata lo scorso 13 marzo, quindi attraverso le anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News possiamo svelarvi cosa accadrà in studio.Ormai è notizia ufficiale. . Pamela ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi seguendo Stefano. I due, infatti, vogliono viversi la loro storia sentimentale lontano dai riflettori. . La dama e il cavaliere, che si stavano frequentando da alcuni mesi, sembravano arrivati ad un bivio. . La ragazza pugliese non credeva infatti ai sentimenti di Stefano e più volte ha deciso di allontanarsi salvo poi ritornare sui suoi passi e tornare a vederlo. . . Infatti i vari tentativi di troncare da parte di Pamela non sono mai sembrati troppo convinti, anche perché la donna, nella sua prima al throne over non ha mai voluto conoscere nessun altro uomo. . . Il motivo? La diretta interessata era troppo coinvolta nella frequentazione con Stefano. . . Nella puntata odierna, finalmente, c'è stato il tanto atteso lieto fine, i due protagonisti hanno deciso di mettere da parte orgoglio per viversi finalmente il loro amore lontano dalle telecamere. . Uomini e donne, Pamela e Stefano insieme. La foto che li incastra. . Denise e Sebastiano vanno via. . Nell'appuntamento odierno Maria De Filippi ha menzionato anche di un'altra coppia che si è formata al throne over di Uomini e Donne, ovvero quella formata da Denise e Sebastiano. . . Le loro relazione sentimentale ha avuto un inizio abbastanza burrascoso perché lei non è riuscita a fidarsi subito del Cavalie. . . Mentre quest'ultimo non aveva nessuna intenzione di avere una storia seria. . Ma sul profilo Instagram di Denise giunge una notizia che ha reso felice i telespettatori del dating show di Canale 5. . 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